Buongiorno, sono Gian Nicola di Gruppo Carmeli ed oggi vi parlerò della piccola SUV di casa Opel, la Crossland. Si tratta di una vettura aziendale del maggio 2019 con solo 11.700 chilometri, in allestimento Innovation con cambio automatico. La dotazione comprende cerchi in lega da 16 pollici silver, i fendi nebbia all'anteriore e i fari eco led. All'interno troviamo il climatizzatore Bizzona con la console centrale anteriore, il cruise control e l'info display a colori da 3,5 pollici. Inoltre la radio R4.0 IntelliLink consente il mirroring del vostro smartphone direttamente dall'impianto infotainment di bordo. Come potete osservare l'auto è in ottime condizioni ed è disponibile anche in altri colori e versioni, anche con motorizzazioni a benzina. Vieni a scoprire la gamma Opel, aziendali e chilometro zero disponibili nei nostri saloni. Se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiama lo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a tua disposizione.